Fabio è stato ritrovato morto Come? Io quel giorno l'avevo visto Gli avevo fatto sapere del permesso E dopo essere stata con mia sorella Era andata da lui Lui mi scriveva Era diverso Mi aveva detto che voleva chiedermi scusa Che si era pentito E che voleva testimonare a mio favore E io gli avevo creduto Io ho già raccontato tutto alla polizia Io sono andata da lui E nonostante le belle parole che mi avesse detto Io gli ho detto che non l'avrei più voluto vedere E lui lì mi ha spinto E mi ha colpito E io in quel momento ho avuto una forza Che non avevo mai avuto prima L'unica cosa che mi veniva in mente Erano le parole di Gianni Che mi diceva che dovevo essere forte Così gli ho detto che Neanche morta sarei tornata da lui E lui mi ha detto che si sarebbe ucciso Se io me ne fossi andata E io me ne sono andata Ma non pensavo che Oh mio Dio E io mi ha detto che